Siamo addolorati per la portata del tragico evento. Il nostro primo pensiero va alla famiglia della donna deciduta. Ai familiari esprimiamo un sentito cordoglio e la nostra vicinanza. Così il direttore generale della ASL di Bari, Vito Montanaro, commenta il decesso della donna di 38 anni, Arianna Acribulis, morta durante l'agoaspirazione ovarica mentre si sottoponeva al trattamento di fecondazione assistita. Entro oggi la Commissione Medico-Legale della ASL Bari, composta dal medico legale Vincenzo De Filippis, dal cardiologo Pasquale Caldarola e dall'anestesista Francesco Gabriele, depositerà le conclusioni del proprio lavoro per chiarire le cause del decesso della donna morta nell'ospedale di Florenzo Iaia di Conversano mentre si sottoponeva al trattamento di fecondazione assistita. La priorità assoluta è ora fare luce sull'accaduto, afferma Montanaro. L'ASL di Bari, afferma ancora, fornirà la massima collaborazione a chi in queste ore ha il compito di verificare quanto è successo. Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha inviato immediatamente a Conversano una task force composta da dirigenti della Direzione e Programmazione del Ministero, dai carabinieri del NAS, da dirigenti ed esperti di Agenas e rappresentanti delle regioni e dovrà acquisire tutti i documenti utili per fare luce sul decesso. I carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica per avviare le indagini coordinate dal PM Luciana Silvestris che è iscritto nel registro degli indagati due medici con l'accusa di omicidio colposo. L'intervento è iniziato intorno alle 8 di mattina e il decesso è venuto dopo 5 ore. A denunciare l'accaduto era stato il padre, l'83enne, della donna. Giuseppe D'Amato, primario del centro di procreazione medicalmente assistita, commenta così La paziente ha avuto un incidente del quale cerchiamo ancora la causa che sommariamente estranea la procedura di fecondazione la quale si stava sottoponendo. Questo è un centro sicuro dove le procedure sono sicure.